Ragazzotti ragazzotti benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi vi porto un gameplay davvero pazzesco. Sì lo so ragazzi, ogni volta che faccio l'intro vi dico sempre che vi porto un gameplay pazzesco, ma è la verità, per ogni volta che vi carico un video qua sul mio canale è sempre di un gameplay veramente assurdo. Difatti, come avete visto dal titolo e dalla miniatura, oggi mi sono andata alla pazza gioia con lo sniper. Tanto per cambiare, ovviamente stavo giocando in ranked nelle nobi a real ed ero in trio, e ragazzi ve lo giuro che l'ultima trio che abbiamo featato l'avrò fatta sclerare così tanto che sono sicura che alla fine della partita mi verranno segnalata per aimbot o roba del genere. Ma sarete voi state a giudicare quello che è accaduto alla fine del game. Prima di iniziare col video ragazzi un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto e vi ricordo che se volete supportarmi nello shop di Fortnite potete utilizzare il codice creatore Croatomist. Taggatemi in una storia su Instagram se shoppate qualcosa così che ve lo andrò a ripostare e vi manderò anche un messaggio in privato per ringraziarvi. Inoltre se volete allenarvi per diventare sempre più forti e solidi in ranked per quanto riguarda la mira, le costruzioni e l'editing vi invito ragazzi a provare e giocare alla mia mappa 1v1 ranked che sono giocando tantissimi di voi tutti i giorni e sta piacendo davvero a tanti di voi e soprattutto sta aiutando molti di voi a diventare sempre più forti. Questo ragazzi qui sotto è il codice della mia mappa 1v1 ranked, provatela fatemi sapere cosa ne pensate anche perché ragazzi vi ricordo che tutti i giorni in live su Twitch dalle ore 16 io vi sfido in 1v1 nella mia mappa quindi se avete fortuna potreste beccarmi e fightarmi per mettervi appunto alla prova. Quindi ragazzi cosa aspettate? Provate la mappa, questo è il codice, però adesso non perdiamoci in chiacchiere e passiamo al video. Io ragazzi vi auguro una buona visione. Io esco da un box e mi trovo, non lo so, i fari che mi mirano. Esco fuori casa appena vedo il sole che mi illumina penso che un cecchino che mi vuole ammazzare. Sono i paparazzi quelli che vogliono fare le foto con flash. Ma quello è Chiara Ferrani. Boom, cecchinata, gg. No, ma ti prendiamo tutte e tre. A me va bene, a me va bene raga, ma io me la collo. Sì ma bisogna giocare con una cura in pratica. No, le cure prima ci hanno salvato eh. No, semplicemente se facciamo cecchino bisognerebbe fare... Bisognerebbe fare tipo tutti con lo spammino, sì, perché cecchino poi... Purtroppo è brutto da dire, ma va usato, fa sboccare ma va usato. Andiamo, andiamo, andiamo subito a prendere il cecchino raga, vi giuro che bisogna arrancare solo con il cecchino, quanto è vero Dio. Dai, 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 facciamolo, facciamolo. Oh, arrivano, arrivano, arrivano. Ok, stai nascosto, stai nascosto, stai nascosto, stai nascosto. Amo, vai dai. Ma, no, ci chiedo. A te? Sì. Ok, stai nascosto, in caso box, ti aspetta che arriviamo. 28 white, 28 white, uno. Che io. Eh, quello bianco. No, se ho bianco, non penso. Caccato uno, caccato uno. Visto. Mi è deciso white, va. Noccato. Questo qua è white. Nocca di due. Eccolo. Bisogna guardare la sottola. Nota, ok, no. Ugo, dai. Non ci guardano, ragazzi, dà la sua gettata, ma anche a me. Ok, 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 tranquilla. Ciao. Il pomparo lasci, vero, quello che è la nuova? Ah, io lo prendo. Oh, comunque, è preso il treno, quindi ho c'è qualcuno, non c'è più nessuna? Ok, sembra sì. Sì, sì, ma io sto aspettando di vedere dove spawnerli. L'isola, mi interessa l'isola. L'hai caccato uno? Qua spara, è chicca, comunque. Quindi magari... Lo vedo, lo vedo. È lì dentro, chicca. Ok, anche la montagna di là sopra. Lo vedo. No, non ci credo. È lì. È quello che è sca... Era quello della trio. L'aziendaia? No, la astra, tipo. No, è una trio, è una trio, questa è una trio, ragazza. No, 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 è il botte, il botte, chicca. Non è una trio. Mamma, chicca. Madonna. Poi spama, Marti. Sono da venti. Ho visto? No, Marti. Noccato, chicca. Visto, visto. Tantaggio. L'altro è uno dog che ora vola. Billy, 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 che mi puscia, Billy, che mi puscia. No, Billy, capissimo. Le botte. Non lo ti sruttò? Niente. Si so, la chicca. Sì, ho visto. Vengo da te. Non fatemi fregare. Concentrate, che abbiamo le in botte su di loro. È Billy e un hamburger lì, tra lo dog che è cruciato lì. Io sto disturbando Billy perché si vuole curare. Però... Non posso fare. No, c'è un'altra triunza, ragazzi, Nike. No, mi hanno fatto le MP. Mi hanno cerchiato da dietro, raga. Già, aspetta, stiamo insieme. Ci sono morta. Crackato, qua. Eh, aspetta, io la stavo facendo una play. Non sono naccato una. Mamma, si sarà. Io ho una duodossia. C'è un'altra mia. Avevo una duodossia, cioè, ma sono quasi morta. Ho spinto il mio. Sì, 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 no, ma... Sì, sì, no, ma... Tanto voi avete loot posti perfetti, poi il resto ci penso. Io qua avete due kit, ricordatevelo. Sì, sì, le posso prendere, non ho provato. Stanno tornando. Io devi prendere subito il loot. Anche dentro il bunker, raga. Due, uno. Vamos. Raga, il bunker è tutto non loot, tutto non loot, raga. Tutto non loot, venite. Champagne, champagne nuovo, mini. Io sei splash. Mentre c'ho uno champagne, hai la in casa fatta, va? Pucciamoli, pucciamoli. No, è guida avanta. Davanti, guida nero. No, guarda, 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 guarda. Bravissima. Sono troppo forte. Lampavi ora? Lei riesce a farti una rampa, ho paura di chi ci vuole. No! No, è sciotto, è sciotto, è sciotto. Oddio, oddio. Andate, 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 andate. Andate, andate. Andate. Ehi. Di bene, le, andate. I naik. Non so che... Ah, non possiamo andare, non possiamo andare, vabbè, fa niente. Ah, io ho preso danno alla caduta, chi ha il kit? Io. Io no. Non ci credo, vabbè, però l'ho grifato. 25? Sì, sì, sì. Faccio il kit, per quanto il kit è stato attento, esplomate. Agli animali. Guarda, andate, ma sì. Guarda, si è stato in te, ragazzi. Sei solo avanti, chica. Non fa niente, tranquilla. Ci mettiamo in aige? Sulla montagna, subito, sì, sì, anche se fuorizzona, anche se fuorizzona. Vabbè, voi potete metterli, si sarà il vi là, se volete. Io posso stare anche qua. Ok, ruota. Ruota una ora. Sali. 120? Grandissimo. 120? Mi collega a te. Sra grifati, raga. Uno dovrebbe essere proprio a sinistra, secondo me. Controllo. Sì? È dietro una roccia, Laura. O like? Andiamo in zona, andiamo in zona, andiamo in zona, lascia di farla. Ok, mi ha preso like, ha preso like. Vedete in zona? 25, white. Knockato, hai shot. Knockato, hai shot, i body. Madonna. Qua. È Laura? L'ultima. È l'ultima, è l'ultima, è l'ultima, è l'ultima, è l'ultima, è l'ultima, è l'ultima. È l'ultima, è l'ultima, dice lei. È l'ultima. Sì, ce la bombiamo? Cento. È l'attropante. Dai, schicca. Winda male, tranquilla. Questa trio l'ho... Nice. L'hai sbombata, i chicca? Minchia, ho fatto solo cecchinate. Nice. Non ho fatto nulla. Pulito. Sono cecchinate, ragazzi, vi giro. Tre cecchini e the win. Tre cecchini e... Grazie. Faio. Faio. Penaccia. Faio. Faio. Grazie a tutti